Ciao a tutti e benvenuti nel mio primo video ASMR Per chi non sapesse che cosa sono i video SMS sterre, nerredelle, sono quei video in cui chiudete gli occhi e riuscite a vedere il colore della mia voce Se fa un caldo di merda Visto che il mio primo video ASMR ho deciso di farlo da nudo So che tantissime persone So che in tantissi So, è troppo alto cazzo, senti una merda So che tantissime, so, so che tantissime persone si eccitano So che tantissime persone si eccitano ascoltando I video di ASMR ASMR Benvenuti in questo video di ASMR Volevo raccontarvi una storia, una storia molto sexy C'era una volta una penna Oh my god, fuck you bitch Per fare sta merda Ma è tutta appiccicosa, ma chi è sta benvenuto? È scaduto Forse questo vi ha infastidito un po' Ma me ne sbatto il bene Una volta sapevo farla La lasci un passo Forse ha preso l'unico frutto che non fa rumore No, sembra Non fa rumore Adesso si fa rumore Guarda me Non c'è più il secchio qua sopra Dove sta il secchio? Mi hanno tirato il secchio dell'immondizia Non so dove ma me l'hanno buttato Figli di puttana Quando cazzo la tiro sta banana masticata Che non posso nemmeno più alzarmi ragazzi Per colpire di fuori La metto sopra Alexa Cazzo, ho tutti i pezzi di banana addosso Faccio veramente cagare No raga, mi devo rimettere gli occhiali Ciao Sono Rosario Muniz Oddio c'è un uomo che mi sta guardando Aiuto, mi vuole stuprare Questo è il mio video di Mi toccare di prank Sembro mia nonna E poi se volete ho anche portato un po' di prugne Che in spagnolo si chiamano Ciruelas Sapete che le prugne fanno cagare? Cioè Vi mandano al bagno Oh fuck you Ah io ho il cagotto C'è il pezzo di banana sopra Ho comprato Alexa su Amazon A 40 euro Anche se in Italia lo vendevano a 20 C'è un pezzo di matita nell'occhio Devo buttare sta roba Scusate Stai visto il culetto Bene Spero che questo fantastico Bene Spero che questo fantastico video ASMR Vi sia piaciuto Se ne volete un altro Scrivete A Sotto il video Ciao